grazie battiato ha scritto fra l'altro quello e qui entriamo nel vivo che voglio comunicare con questo lavoro è che nessuno di noi muore mai ciò che facciamo è solo passare da uno stato a un altro stato ci racconti come prima del documentario battiato siccome ho scritto una prefazione che naturalmente non ho messo dentro il documentario l'unità primordiale e spazio e saggezza inseparabili quando il praticante è in grado di riconoscere la sua natura la consapevolezza è libero tutti gli 84 mila tipi di emozioni disturbanti istantaneamente in un solo attimo si liberano senza lasciare traccia la saggezza originaria è libera dal pensiero eppure è conoscenza di tutto milarepa era in grado di volare di attraversare le rocce più dure i grandi maestri camminavano sull'acqua e rimanevano in columi tra le fiamme non facevano miracoli avevano capito la non sostanzialità della natura originaria delle cose che diventa sempre più evidente man mano che la concretezza dei fenomeni si dissolve padma sambhava si manifestò in questo mondo senza madre né padre e apparve al centro di un fiore di loto lui non voleva entrare in un grembo materno questo lo aggiungo io da grande fu messo al rogo molte volte lasciando allibiti e increduli i suoi persecutori ci volevano veramente per giordano bruno comunque al momento della morte non avviene una morte reale perché la nostra natura innata è al di là del tempo nel bardo le fiamme non possono bruciarci le armi non possono ferirci tutto è illusorio e privo di sostanza tutto è vacuità l'economo del monastero di tucco ceichi nima rimpoce bong gompa nel nord del tibet centrale era in punto di morte ma parlava continuamente bene ora questo elemento si sta dissolvendo ora la coscienza si dissolve nello spazio ora lo spazio si è aperto e le manifestazioni stanno apparendo la catena del vagera fluttua come una ghirlanda di cristallo e fiori freschi la dharmata è veramente incredibile morì ridendo le esperienze che appariranno al momento della morte sono inconcepibili la cosa più importante è ricordare di non essere tristi o depressi non ve ne sarebbe motivo bisogna mantenere piuttosto l'atteggiamento di un viaggiatore che ritorna a casa tutti più o meno siamo prigionieri delle nostre abitudini paure e illusioni le sofferenze dovrebbero indurci ad abbandonare l'ego che chiude la strada del ritorno alla nostra natura divina noi esseri umani siamo orgogliosi del libero arbitrio e guai a chi mette in discussione questa libertà ma ahimè non è così in realtà siamo schiavi delle nostre emozioni che ci determinano dei desideri che ci dominano e spesso finiscono in tragedia bella libertà la liberazione non può avere legami né attaccamenti di notte quando si sogna ci sembra tutto vero al risveglio scopriamo che non lo era gli elementi terra acqua fuoco aria e spazio sono presenze non esistenti non hanno natura propria il senso della nostra esistenza terrena è quello di crescere diventare esseri completi e ritornare all'unità ci vediamo dopo la visione buonasera buonasera a tutti ecco immagino che siate ancora presi emozionati da questo documentario che indubbiamente ci entra dentro e attraversa un tema però con serenità abbiamo visto che ci riguarda tutti a qualunque età c'è franco battiato lo sapete inutile presentarlo c'è il monaco cristiano padre guidalberto bolmorini che è docente a padova cristina battocletti sì ci sono anch'io docente a padova di accompagnamento spirituale alla morte così ma è molto di più perché è anche fondatore di tutto e vita di una comunità e anche come si chiama esattamente la tua pratica di yoga cristiano si si chiama l'esicasmo che è un'antichissima tradizione di meditazione cristiana che però ha molti paralleli con le pratiche yoga come ha mostrato tanti studiosi ecco e franco appunto è andato a cercarlo assieme a tanti a tanti ospite a tanti protagonisti di questo documentario un documentario molto bello perché è onesto naturalmente nessun documentario sappiamo può essere obiettivo quanto di più vicino a quello che è la ricerca di franco battiato che lo dicevamo l'altra volta no come definisce francesco messina in ogni tanto passava una nave è un metafisico con una fortissima inclinazione al misticismo e la sua ricerca lo dicevamo poco poco fa è più che quarantennale questa ricerca spirituale e trascendentale ecco dirò due cose poi vorrei far parlare questi questi protagonisti attraversando il bardo sguardi sull'aldilà il bardo è uno stato di transizione tra il momento della morte e la reincarnazione che però nella pratica tibetana non è qualcosa di buono il samsara è una un incatenamento alla vita che invece l'opposto di quello che si vorrebbe raggiungere ovvero la vacuità il fondersi l'annullarsi e franco battiato ha cercato molte sponde sponde di natura diversissima abbiamo visto che ci sono i lama c'è padre guida alberto bormolini c'è ci sono un viaggiatore fisica quantistica ricercatore un viaggiatore astrale insomma c'è un tipo di ricerca che è molto vasta laica religiosa che quello che sta facendo e ha fatto franco battiato in tutti questi anni lo ricordiamo le sue canzoni basta citare alcuni e ti vengo a cercare oppure il cinghiale bianco che era loro una ricerca è un paragone tra quelli che erano i temi celtici e l'induismo oppure anche un cerco di un centro di gravità permanente ma tutti tutti i presenti lo sanno tutti hanno sicuramente cantato e sentito c'è una cosa in particolare che mi interessava nella canzone che vi unisce perché la pratica spirituale dello yoga l'esicasmo ha una certa forma di musicalità interiore no sant'agostino in realtà non lo diceva sant'agostino un termine diciamo un detto che deriva da da certe riflessioni di sant'agostino chi chi canta prega due volte ecco allora volevo chiedere a entrambi i nostri meravigliosi ospiti che cos'è la musica nella ricerca vorrei chiederlo prima prima a franco la ricerca nella tua musica la ricerca spirituale nella tua musica e poi a padre guidalberto se ci racconta la musicalità nella preghiera devo dire che un teologo tempo fa disse c'è dio poi la musica a secondo posto e quindi se veramente abbiamo delle sensibilità reali certo sto parlando in questo momento di musica classica perché sono due cose completamente differenti rispetto alla musica leggera perché i compositori classici ci sono stati degli esempi che quando uno sente la musica di questi qui capisce subito che viene dal divino non ci sono dubbi poi ci sono quei compositori che fanno questo e nello stesso tempo sono dei bastardi invidiosi velenosi e quelle poi è un loro problema a me non interessa però è così il requiem di fore per esempio un gioiello puro e tutti gli altri da strauss a wagner che era uno stronzo come uomo diciamo e se non ci posso fare niente perché aveva questo vizio di portarsi tutti i mobili dalla germania a fare le vacanze lui ha fatto crollare il l'impero di luigi no completamente che lo amava sessualmente lui si portava sempre la moglie la figlia di 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 list e non lo doveva fare questo gli dava il contentino e quello per tutta la vita ha sofferto no a parte che però la sua musica è rimasta indimenticabile che dice guida alberto nelle tradizioni di tutti i popoli si dice che la creazione è un fatto musicale per cui è ben comprensibile quello che diceva franco prima perché subito dopo dio c'è la musica ma la musica per lui è stato proprio il suo canto che è diventato tutto ciò che c'è per cui noi siamo un pezzettino della sua canzone ognuno incarna un pezzettino di questo canto divino originario questo è un mito che si trova in tutti i popoli anche nel cristianesimo dire il verbo è la bella parola per cui una parola armonica una parola quasi cantata il de garda di bingen aveva fatto una bellissima sinfonia dramma liturgico musicale in cui tutti gli spiriti cantano e lo spirito ribelle è l'unico che non canta per cui la musica è quello che mette proprio un collegamento col divino canto e musica in tante tradizioni mistiche si dice che ognuno di noi ha una sua canzone nel suo cuore è un po l'equivalente di quello che un oriente si chiama al mantra però è universale un po quest'idea però sarebbe proprio un fatto musicale una piccola canzone e anche quando i istici dicono che passeggiando per la natura sentono un canto è perché tutto ciò che esiste ha dietro il suo angelo che canta perché questa cosa sussista dicono un po così in forma poetica perché quando san francesco diceva che sentiva il cantico delle creature sembra che sia da intendersi proprio in senso letterale comunque c'è tutta una letteratura mistica che dice che la natura canta incessantemente una canzone e bisogna imparare a udirla se noi impariamo a cantare la nostra canzone nel cuore risuona quella di tutta la natura questo è un po quello che dice la mistica è interessante che ad esempio beethoven si racconta che uno dei suoi più bei sanctus l'ha udito che era cantato da una quercia perché probabilmente c'era l'angelo che cantava e lui con la sua abitudine alla musica ha incominciato a sentire altre musiche molto interessante ecco e anche nel documentario se vi ricordate guidalberto bormolini parlava di mozart no che parlava di sorella morte tra l'altro il padre bormolini preferisce parlare di morte piuttosto che fine vita perché fine vita è qualcosa di appunto finito che ha un limite e mi chiedo quanto è difficile come mai hai voluto affrontare questa esperienza in un documentario poi in un libro parlare di ars moriendi in una civiltà così giovanilistica come la nostra è difficile ardo eppure riempi le sale è inutile rispondere perché ognuno ha un suo progetto e quindi ho lavorato tanto in questo campo per cui ci sono delle persone che che mi seguono e questo mi basta mi viene in mente un pianista di cui non ricordo il nome in questo momento bulgaro famosissimo intervistato da un giornalista gli chiede quando lei si trova davanti un migliaio di persone e lì influenza calma gli dice lui no mi basterebbe uno dei mille e questo è il mio principio ecco invece padre guidalberto dicevi prima che arriva molta molta gioventù laica e non solo gioventù ai tuoi ritiri ma non solo alle serate nella tua comunità di ricostruttori nella preghiera se non sbaglio esatto a parte anche ieri sera con franco constatavamo che a fare una proposta culturale alta a parlare di argomenti anche un po tabù ieri a firenze il 70 per cento erano giovani presenti per cui la sete c'è però bisogna saperla provocare perché purtroppo c'è questo tabù dell'argomento morte è intoccabile per cui alla fine anche qualcuno che si ritiene credente quando tocchi quel tasto crolla tutto mi ricordo mia nonna cristianissima tutta però promette solo un po di superficie formale avevo detto a mia madre un po come accudirla negli ultimi tempi è una cosa abbastanza accertata che prima di morire uno vede affacciarsi i propri morti la distinzione diciamo tra gli studiosi e questa è una cosa accertata per alcuni è un'allucinazione per alcuni no però è proprio studiatissima questa cosa per cui tanti che io formo negli ospis negli ospedali nelle asle mi raccontano che capiscono che sta morendo una persona quando parla coi propri morti ecco mia nonna ad esempio quando borbottava qualcosa mia madre gli ha chiesto ma con chi parli fa ci sono mio papà e mia mamma davvero ma che cosa dicevi tornate un'altra volta perché il terrore se non si è preparati è terribile per cui uno rinuncia a scommettere sul momento culminante della propria esistenza il terrore è veramente paralizzante per cui bisogna educare le persone per tempo e questi percorsi di meditazione che facciamo sono il modo migliore dai tempi antichi non perché li facciamo noi non siamo migliori di altri ci sono tante scuole buone sin dai tempi più antichi c'erano queste ars moriendi che passano attraverso l'arte del silenzio una cosa è indiscutibile che sui due fronti quando qualcuno muore se sei tu in prima persona o uno che accompagni allora se sei tu hai bisogno di silenzio e se ti sei allenato al silenzio saprai gestirlo se lo accompagni avrai poche cose da dire in quel momento e se non hai imparato a comunicare con il silenzio non saprai più cosa dirgli per cui è importante sia per accompagnare che per prepararsi l'arte del silenzio e soprattutto di sviluppare questa canzone interiore allora quando stiamo vicino uno e dentro di noi cantiamo la nostra bella canzone per lui in silenzio lui la udrà di sicuro e si sentirà accompagnato certe volte a fargli una predica invece non sarà ciò che desidera ecco insegniamo un po quest'arte preziosa perché di sicuro quando si muore non si parla si sta in silenzio e se si impara a parlare in silenzio si impara qualcosa di prezioso ecco franco ti vorrei fare una domanda di tipo tecnico cinematografico tu tu sei stato regista di film di fiction e adesso sei passato diciamo al documentario e c'è sempre un gran dibattito su questo no renoir diceva che cinema qualsiasi cosa che passa sullo schermo così diceva edgar moren invece aveva sul cinema verità aveva tutta una sua filosofia che è stata confessata sconfessata tu come ti sei approcciato appunto a questa ricerca che è molto seria come hai pensato hai strutturato questo documentario se ci racconti il viaggio per farlo già si vede ma questo documentario beh anzitutto ho dovuto censurare parecchie cose perché se sei dentro all'argomento puoi comunicare con quello e con lo stesso identico interesse questa storia della reincarnazione su alcuni fa un effetto repellente tutte le volte che per esempio mi sono trovato con vescovi o cardinali ho sempre preparato un tranello così diciamo per cui l'ultima volta con i rogazionisti di Roma uno di questi che ama la mia musica diciamo così mi ha chiesto visto che sapeva che io dovevo fare un concerto a Roma passa da noi ti prego guarda ci teniamo moltissimo così passo da loro e lui appena entro mi prende e mi porta in una stanza a parte e mi dice guarda che sono incazzato nero dice questo rogazionista che la scuola teologica diciamo e mi dice dal vaticano hanno mandato due vescovi e un cardinale fa questo non lo dovevano fare eccetera eccetera quello di destra lo conoscevo perché mi aveva fatto un'intervista alla radio vaticana quindi io gli dico ex abrupto dico ma lei si ricorda che cristo parla delle di reincarnazione nei vangeli ci sono tre quattro secondi di silenzio terribili e fa geremia no dico sono tanti gli esempi e lui dice e sì e dico e scusi perché non lo dite altri tre secondi di silenzio totale e mi dice fa sono cose delicate e uno dice va bene vuol dire dire sono cose delicate vuol dire perdere il potere che quello perché per loro conta e quindi avremmo avuto sicuramente un documentario più lungo ecco invece padre guidalberto lei rappresenta una forma di congiunzione e ci racconta il vostro incontro tra i due si è avvenuto ormai sono un paio d'anni mi sa comunque quando aveva iniziato è passato già un po di tempo adesso però vi racconto una cosa che franco non sa perché quando mi hanno chiamato mi hanno cercato per questo film in casa c'erano delle altre nostre monache e era il periodo che era eletto da poco papa francesco che non so se ricordate telefonava a tutti poi ha smesso però dico oh ma sapete chi mi ha telefonato mi fanno il papa no era franco battiato quasi però il secondo che glielo ho detto di nuovo ha detto il papa dico no allora non lo chiedo più a nessuno perché non è il momento giusto il papa che chiamava tutti però invece mi aveva chiamato mi ha fatto cercare perché stava pensando a questo documentario con idea geniale perché è proprio necessario infrangere questo tabù anche perché poi lo vedete la sala si riempie mi ricordo che quando ho fatto una conferenza ero appena arrivato a firenze sono passati insomma quasi 17 18 anni avevo fatto una conferenza intitolata imparare a morire perché bisogna imparare non è che sia così facile bisogna imparare come fare noi studiamo tutto cose che non faremo mai e poi questo però non lo studiamo non impariamo quest'arte e questa conferenza imparare a morire c'era la sala stracolma e i negozianti non volevano attaccare il volantino fa perché c'era come imparare a morire e invece Tiziano Terzani quando l'ha visto è accorso subito fa voglio vedere chi ha il coraggio di dire di usare questo linguaggio nella Firenze Bottegaia infatti l'ho incontrato poi in quell'occasione e è importante per cui quando ho sentito che voleva fare un'iniziativa del genere per rompere questo tabù sono andato volentieri poi insomma i lavori che fa sono di qualità e sono andato a trovarlo a casa dove mi ha ospitato e infatti le riprese in cui mi ha intervistato sono nel suo studio è una bellissima casa dove mi ha accolto benissimo perché poi voi magari lo conoscete solo da palcoscenico però è una persona molto attenta a tutti visto da questo fronte è chiaro che uno non ha la possibilità di conoscerlo però lo osservo quando è insieme alle persone quando è insieme a lui è sempre attento a tutti che tutti hanno da mangiare che sono a loro agio se c'è qualcosa che vede è sempre delicatissimo mi aveva colpito che insomma a tu per tu aveva questa forte sensibilità e sono stato contento devo dire che uno che è prete monaco e teologo mi sembra che basti effettivamente la sa lunga la sa veramente molto lunga questo non si sa ecco riguarda anche la battuta che ha fatto prima del potere delle religioni c'è da dire una cosa che raccontavo anche ieri quando ero con Franco che bisogna insegnare la spiritualità che parta dal cuore perché per troppo tempo si è fatto leva sulla paura come magari in buona fede io considero sempre la buona fede perché preferisco sempre cercare di far di vedere con lo sguardo di bene però raccontavo ieri con lui rabbia questa mistica islamica aveva fatto una cosa simpatica e provocatoria girava per le città con un'anfora d'acqua e una fiaccola di fuoco perché voleva buttare tanta acqua all'inferno e tanto fuoco in paradiso perché la gente la piantasse di dirsi religiosa solo perché aveva paura di una punizione o desiderava un premio che è quasi peggio ma soltanto per amore allora aggiungo aggiungo il post questa rabbia che era una donna molto interessante sufi diciamo e riceve una sua allieva la quale le dice senta fa madre guarda io non sopporto più questa cosa di sessualità per cui io sto cercando di mettere il sesso sotto i piedi devo completamente scacciare questa quando finisce la rabbia gli dice guarda cara che il sesso è come il fumo passa attraverso le porte fallo e qui infatti c'è il dibattito tuttora vivo adesso nella chiesa sul sul celibato forzato del sacerdozio a Milano Franco raccontavi una cosa per me indimenticabile cioè la tua prima esperienza di trascendenza che era venuta mi sembra da piccolo a sei anni se la racconti un'uscita dalla chiesa durante la domenica delle palme e il prete aveva messo a tutto volume una cosa musicale che mi aveva veramente scosso però ho sentito come una calamita verso l'alto di gioia pura quindi ritorno indietro e vado dal prete gli dico che cos'è questa musica Johann Sebastian Bach ricordalo mi è rimasto impresso tutta la vita quella fu la prima e poi altri che non stiamo a raccontare il privato è privato hai ragione hai ragione e l'esperienza col libro dei morti il libro diventano dei morti questo possiamo raccontarlo è sempre molto privato mi piace molto questa donna quindi accetto la sfida sì effettivamente quando iniziai veramente iniziai studiando i mistici indiani nel 1970 non sapevo neanche che cosa fosse la meditazione però qualcosa mi aveva come dire turbato e mi sono messo per terra e ho scoperto che c'era la possibilità di entrare nel mio corpo dentro e a poco a poco la sostanza che diventava reale bene subito poi passo al libro tibetano dei morti quando ho cominciato a leggerlo non riuscivo più a tenerlo sul comodino dovevo per forza nasconderlo mi faceva soffrire terribilmente poi invece quando entri e capisci che invece ti stai sbagliando di grosso allora ho cominciato a rileggere e credo di conoscere tutto di questi tibetani completamente tutto poi ho attraversato anche il periodo degli anni che vanno dal 74 all'81 mi pare di sì così ero entrato nei gruppi gurgieffiani Giorgio Ivanovich Gurgieffi era un mistico molto forte devo dire e sono stati sette anni mirabili mirabili poi arrivano le notte oscure non è mica tutta danza che eh sì padre lei prima raccontava anche nel documentario normalmente si dice ah gli è venuto un colpo che fortuna e invece non è così questo è vero questo è vero non è così non ci si deve augurare questo no questo proprio mi ricordo quando ero piccolino mia nonna che era di una famiglia di boscaioli della Varca Monica e che ci facciano fare le pregherine in latino poi l'ho capita dopo perché da piccolo semmai capivo meglio il bresciano del latino però c'era appunto libera no sdomine a morte improvvisa e pensate che per millenni la morte improvvisa era ritenuta il più grave pericolo che potesse succedere infatti chi appartiene ancora alla tradizione anche quella semplice popolare per cui mio padre come raccontore documentario mi aveva colpito proprio perché insomma 85 anni parte Arzillo va in giro in motorino all'alba quando piove però comunque i conti li farà e ha detto proprio questa cosa subito per fortuna che è morto avendo tutto il tempo per prepararsi è molto importante anche perché se noi diventiamo registi di quel momento facciamo un dono enorme agli altri dicono che è proprio il più grande dono che noi possiamo fare per amore degli altri è dare un senso alla fase finale della nostra vita lasciamo una traccia indelebile per cui che sia ben preparata e soprattutto perché non ci troviamo disorientati perché la paura se subentra in quel momento può veramente disorientare la Bhagavad Gita che è un bellissimo poemandiano dice chi è tutto orientato a me al momento del passaggio entrerà nel mio essere è interessante è un po' quello che diciamo anche noi nella nostra tradizione cristiana cioè all'ultimo momento essere orientati all'assoluto all'infinito usciamo dal nostro limite finito questo può essere grandioso però va preparato perché è difficile che arriviamo in quel momento capace a farlo se non ci abbiamo dedicato gran parte della vita per quello che Lars Moriendi va praticata l'abbiamo perduta abbiamo perduto una cosa troppo preziosa e bisogna partire anche da cose semplici nei misteri eleusini nella Grecia la Grecia diceva Aristotele è diventata grande grazie alle eleusi davano questa introduzione ai misteri in cui uno imparava che la morte non esiste perché la morte non esiste c'è solo vita da questo e dall'altro lato però bisogna che caschi un velo dagli occhi e dicevano che alla fine del percorso nel buio con apparizione mostravano una spiga di grano che poi è lo stesso simbolo che c'è anche nel Vangelo se chicco di grano non muore non fa frutto pensate a questa immagine per un medio orientale forse qui in pianura padana forse lo capite i cittadini i cittadini magari un po' meno il grano un chicco fa almeno una spiga anche di più ok per cui se il chicco di grano muore fa più chicchi di grano ma per un medio orientale questa immagine aveva un impatto ancora più forte perché i terreni fertili erano pochi per cui usavano una tecnica di accessimento io l'ho provata perché noi lavoriamo la terra per vivere nella nostra comunità per scelta di povertà viviamo con il lavoro anche della nostra terra mangiamo quello e abbiamo coltivato un po' di grano anche con la tecnica antica se tu lo cestisci da un chicco di grano fai fino a cento e più spighe e ogni spiga ha tanti chicchi per cui morendo c'è vita traboccante non solo c'è vita ma può esserci vita traboccante questo è un simbolo molto importante che possiamo usare per scardinare questa paura della morte Franco invece chi commette atto di violenza contro se stesso il suicidio è gravissimo anche perché è molto raro rincarnarsi in una vita umana non solo quindi il cristianesimo condanna sì però non bisogna considerarla come una regola non è così per esempio Monicelli secondo me ha fatto bene a buttarsi dall'ottavo piano perché non poteva vivere in quelle condizioni non poteva più vivere e quindi non sempre c'è questa regola c'è quando tu ti suicidi in una maniera indecorosa oppure sei anche giovane eccetera eccetera perché stai perdendo veramente la dimensione dell'esistenza e quindi stai facendo del male a te stesso in una maniera mi viene in mente mia nonna ogni tanto che quando qualcuno è ignorante e ha sensibilità raggiunge qualche livello perché io mi ricordo che mia nonna si mise a letto per mesi interi si girava da una parte dall'altra e poi morì benissimo questo è come gli elefanti che sanno che stanno per morire viaggiano c'è una sensibilità che ti porta a dire fra poco sono passati parecchi mesi prima che lei morisse era molto in gamba un modo quindi di lasciarsi perdere e invece per per Guidalberto ma c'è una cosa che in Italia è poco nota per cui tanti arrivano alla morte con la disperazione perché la sofferenza è terribile questo c'è poco da dire chi è stato sopraffatto dalla sofferenza arriva a commettere questi gesti perché la disperazione ti fa sembrare di essere proprio un vicolo cieco esistono le cure palliative a un sondaggio recente risulta che un italiano su quattro sa che esistono ma poi domandiamoci ma sanno anche cosa sono ecco andrebbero sviluppate hanno fatto una ricerca proprio di recente sul più grande ospice di Francia e la domanda di morte nel momento di sofferenza alla fine era dello zero virgola qualcosa pochissimi perché perché se sono accuditi alla fine uno e soprattutto con le cure palliative che riducono il dolore è chiaro che uno non desidera morire disperato e poi non si sa che la sedazione è una cosa lecita se il suo intento primario non è di accorciare la vita ma di diminuire il dolore è lecita anche dal punto di vista cristiano è giustissimo perché uno deve rantolare inutilmente a meno che non lo scelga perché esempio il mio maestro di chitarra il mio maestro di falegnameria vi racconto due episodi brevi il mio maestro di falegnameria io ho iniziato a 13 anni a lavorare come falegname carpentiere ha avuto un tumore alle vertebre lui era un duro proprio io sono di un paesino della provincia di Brescia all'epoca era ancora un po' un paesino e lavorava una frazione e lui quando ha avuto questo tumore alle vertebre l'hanno scoperto molto avanzato perché non non lo diceva nessuno era abituato a tener duro una volta mentre in ospedale la figlia lo vede fare una smorfia di dolore e allora va dall'infermina e dice aumentategli gli antidolori lui è un duro se ha fatto una smorfia figurati e le infermiere hanno detto ma che gli aumentiamo non ha mai voluto nulla allora è andato da lì e gli ha detto oh ma papà ma perché non vuoi ma perché io ho ancora qualcosa da imparare della vita vorrei imparare di più la pazienza per cui lui deliberatamente si può arrivare è imparato un'arte l'ha scelto però non va subito chi non vuole soffrire bisogna fare in modo che non soffra e ci sono le cure palliative però si può dare anche un senso alla sofferenza il mio maestro di chitarra anche lui si è ammalato di tumori alle vertebre il direttore di un hospice quando l'ho raccontato ha fatto è meglio non diventare amici di Guido Alberto perché c'è un alta percentuale di tumori alle vertebre soprattutto i maestri diceva chi gli insegna qualcosa è in pericolo però comunque che simpaticissimo il direttore dell'hospice di Grosseto che è presidente di cure palliative della Toscana lui questo maestro di chitarra era un fornaio autodidatta che ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta durante il servizio di leva ha visto un siciliano che suonava la chitarra fa voglio imparare anch'io è diventato il maestro restando fornaio il maestro dei più grandi chitarristi di Brescia e lui era non credente uno spirito libero infatti è stato un maestro anche di vita non soltanto di chitarra perché era uno spirito libero i miei istruttori sono stati tutti dei grandi spiriti liberi capaci ad andare controcorrente di essere fedeli alle proprie idee di non vendersi mai per nulla perché tutti hanno avuto proposte che potevano avere di più nella vita in termini magari di potere rifiutate per la libertà mi hanno insegnato tanto ecco lui un giorno mi chiama la sua moglie e mi dice sei malato di tumore di vertebra quando è andato in pensione da fornaio sta malissimo maestro Fausto corri a trovarlo perché sta proprio male magari a pochi giorni o poche ore sono andato la mattina dopo l'ho visto con un volto luminosissimo e ho detto ma mi ha chiamato sua moglie che sta malissimo e dico io non l'ho mai vista con un volto così e lui mi dice ma sai cosa mi è successo stanotte io dico ma santo cielo sono trovato sto tumore di vertebra dolorosissimo ho rantolato tutta notte ho imprecato tutta notte anche perché lui non era credente ma nelle case di campagna il crocifisso lo attaccano tutti un po' come soprammobile era lì così e allora ho detto ho iniziato a imprecare contro di lui e dopo un po' che lo facevo a un certo punto mi sono fermato mi si è aperto come un velo ho cambiato completamente sguardo su tutto e gli ho detto oh grazie di sto tumore le vertebre se non me lo avessi donato quando mai avrei passato la notte a parlare con te e è morto dolcissimamente e senza dolori ha dato un senso alla sofferenza e gli ha trasformato gli ultimi giorni di vita e aveva veramente un volto luminosissimo Franco tra questi incontri a parte Guidalberto che hai avuto per il documentario quale ti ha trasmesso più un senso di spiritualità profonda a te di loro? sì beh anzitutto non è stato facile per loro perché le domande anche se loro non l'hanno visto io facevo delle domande veramente proprio al limite del credibile e per cui ho portato a casa un mare di roba che poi non ho messo per i motivi che dicevo prima insomma ci sono delle cose che devono essere anche private per esempio io ho parlato con la Mamollam a casa sua l'indomani quasi tutta la giornata raccontandogli le mie esperienze e lui mi diceva questo è così questo è così e questo è così e mi corrispondeva tutto però non penso che insomma la via esperienziale è determinante in questo mondo per forza tu per arrivare a raggiungere mete alte hai bisogno di avere esperienze mistiche non c'è non c'è dubbio però per esempio Lama Cancer secondo me è uno preparatissimo è stato allievo di Chiatra Rinpoche che adesso ha 105 anni io miravo al capo però siccome era suo allievo e sapeva tutto quindi è stato per me un bene enorme perché lui mi ha raccontato delle cose che io non sapevo e che lui sapeva di passaggio ma non aveva avuto queste esperienze cioè il viaggio interstellare il viaggio superiore alla luce lui non l'ha vissuto Chiatra Rinpoche sì secondo me però ci dà la notizia che anch'io lo so adesso per via traversa come la sponda di un biliardo no? Vasi comunicanti sì esatto sì perché in questi universi paralleli no? ci sono degli individui che vivono all'interno di certi pianeti che nessuno li può vedere perché si vedono solo tra di loro a secondo della categoria elevata su cui sono arrivati e quindi quando capiterà che si metteranno ad analizzare i 110 pianeti come la Terra fortunatamente la fisica tradizionale è stata debellata perché erano degli scemi totale l'ho sempre pensato da quando avevo quando avevo 18 anni dico quello lì che dice che non c'erano evoluzioni non voglio neanche nominarlo ma era un pirla proprio Franco vuoi concludere tu con una constatazione con una constatazione quello che vuoi vi posso dire che sono contento della vita che ho fatto sono stato molto fortunato questa è la conclusione grazie a tutti c'è spazio per firmare le copie grazie grazie a tutti